Figure dalle sembianze animalesche, che pronunciano parole oscene e vomitano versi ferini, che si possiedono a vicenda come merci e pareggiano gli effetti col denaro. Sono i personaggi di Mater Camorra e i suoi figli. La creativa rilettura di Madre Coraggio di Brecht, concepita a più mani da Michele Delgrosso, Gianni Sallustro e Nicla Tirozzi, è presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Interpretato dai ragazzi dell'Accademia Vesuviana, lo spettacolo debutta giovedì 24 aprile al Teatro instabile di Napoli nella zona di Via Tribunali con la regia dello stesso Delgrosso. Nell'opera di Brecht il degrado etico è conseguenza della condizione di povertà e di bisogno. In questo lavoro lo stesso tema acquista sfumature più ambigue e meno definitive, accostando alla condanna intransigente del crimine una certa pietas per lo smarrimento morale degli individui. E come in Brecht è presente la figura del cappellano, che rievoca una certa borghesia dall'aspetto rassicurante e dai comportamenti velenosi. Ecco allora che il sacerdote, interpretato da Gianni Sallustro, ha espressioni luciferine e le movenze di un serpente. Uno a uno vada al centro! In un tempo di sorta. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Gaetano Montanino, guardia giurata che fu uccisa nel 2009 a 45 anni in una sparatoria nella zona di Piazza Mercato. La tenera figura di Catherine, figlia minore di Marre Coraggio, che sacrifica la vita per salvare un villaggio, è interpretata dall'attrice Veronica Montanino, figlia di Gaetano. Quanto è impegnativo uno spettacolo dedicato a papà. L'impegno è doppio perché oltre quello attoriale e quello emotivo è il dovere morale che portiamo nei confronti delle nostre vittime, di mio padre ma di tutte le altre che non dimentichiamo. E metterlo in scena e sentire costantemente questa responsabilità addosso non è stato facile, ma allo stesso tempo oggi dà il senso delle nostre vite, di noi che rimaniamo. Mater Camorra sarà in scena al TIN fino a domenica 11 maggio. Noi, non è una prima, come un fascista.